va ora in onda radio speranza notizie a cura della redazione giornalistica un cordiale saluto a tutti da massimiliano spiriticchio al microfono natasha in regia e da tutti noi di radio speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di pescara penne che trasmette sugli 87 6 megahertz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it siamo anche su facebook dove ci potete cercare digitando radio speranza stasera saranno celebrate le veglie di mezzanotte nelle varie parrocchie dell'arcidiocesi di pescara penne vivere il natale con una parola di gioia di speranza e di amore è stato l'augurio rivolto a tutti i fedeli da sua eccellenza monsignor tommaso valentinetti arcivescovo di pescara penne dai microfoni della nostra emittente domani alle 11.30 la santa messa nella chiesa cattedrale di san cetteo in pescara sempre in cattedrale e sabato alle 21 ci sarà il concerto della filarmonica dell'ucraina e tra i presepi che si possono visitare in questo periodo c'è da segnalare che nella parrocchia di san michele arcangelo montesilvano colle tutti gli interessati potranno iscriversi a presepi in corso rassegna che permette a quanti lo vogliono di partecipare alla realizzazione del presepe realizzando ciascuno il proprio a letto manoppello invece i personaggi del presepe sono stati scolpiti e ricavati dalla pietra della maiella ed esposti dal 6 dicembre fino al 6 gennaio nel centro storico L'assessore alle politiche del lavoro Paolo Gatti della regione Abruzzo ha convocato per l'8 gennaio il comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore all'ordine del giorno l'adozione dell'accordo quadro che deciderà su come fornire gli aiuti in deroga nella regione Abruzzo per l'anno 2014 dal 1 gennaio per continuare a contrastare la grave situazione di crisi industriale e occupazionale e la recessione in atto da tempo che perdura e coinvolge tutti i settori di attività e tutte le aree del territorio regionale Reati in calo in provincia di Chieti secondo le stime del comando provinciale dell'arma dei carabinieri che nel 2013 ne ha perseguiti 11.715 il 6,2% in meno rispetto all'anno scorso riuscendone a scoprire 2.687 vale a dire il 23% Le cifre sono state rese note dal colonnello Salvatore Ronzo da un anno e due mesi alla guida del comando provinciale Nel bilancio dell'attività svolta dall'arma nel corso di un anno si capisce che il reato più ricorrente è il furto Anche in questo settore però ci sono notizie buone Sono stati 6.040 i furti denunciati di cui 294 scoperti rispetto ai 6.526 dell'anno passato Il 7,4% in meno A Natale resteranno fermi gli impianti sciistici del comprensorio più grande del centro Italia Quello cioè dell'Alto Sangro in Abruzzo I dipendenti hanno indetto uno sciopero per domani e dopodomani Per protestare contro i mancati fondi da parte della regione Per l'innevamento programmato fondi attesi da due anni A rischio chiusura oltre 100 chilometri di piste In pericolo 300 posti di lavoro diretti E ci sarà invece l'apertura straordinaria di musei e aree archeologiche a Natale e Capodanno Per iniziativa del Ministero dei Beni Culturali Dal 25 dicembre al 1 gennaio dalle 14 alle 20 I musei Villa Frigeri e la Civitella di Chieti Campli in provincia di Teramo La sezione archeologica Castello Piccolomini di Celano in provincia dell'Aquila Il Palazzo dell'Annunziata Sulmona Saranno visitabili dalle 8 alle 14 I siti di Alba Fucens in località Massa d'Albe in provincia dell'Aquila Amiternum in località San Vittorino sempre in provincia dell'Aquila E Iuvanum a Monte Nerodomo in provincia di Chieti Più visitatori in città all'Aquila Località turistiche e stazioni scistiche Per garantire sereni giorni di festa La questura aquilana mette in campo pattuglie nel centro storico del capoluogo Ad Avezzano per la fiera di Santo Stefano E a Sulmona vicino ai centri commerciali 12 uomini anche sulle piste di Roccaraso Remogna, Rivisondoli, Monte Pratello Campo Imperatore e Gran Sasso Gli sciatori insieme allo Schipass riceveranno il dépliant Sicuramente la prudenza aumenta il divertimento E partirà subito dopo le festività natalizie a Monte Silvano L'appalto ha giudicato dalla ditta tra Deco SRL di Altamura in provincia di Bari Che prevede la raccolta differenziata di prossimità per le utenze domestiche E il porta a porta per le attività commerciali Il contratto con la società pugliese che sostituirà la Eco MSPA Che attualmente gestisce il servizio Prevede anche il riassorbimento del personale della precedente società Si tratta di 46 dipendenti che entreranno a far parte della nuova squadra Mezzi pubblici e uffici postali con orari rivoluzionati e ridotti Per i giorni di vacanza a Pescara Per poi riprendere normalmente a partire dal 2 gennaio Sono questi i provvedimenti assunti in occasione del Natale E ufficializzati nei giorni scorsi all'amministrazione comunale di Pescara Gli uffici del comune di Pescara sono chiusi per riprendere l'orario normale dal 27 dicembre Orari ridotti fino al 2 gennaio anche per i vari uffici postali Domani e il 31 dicembre saranno ridotti anche gli orari degli autobus Per informazioni sui trasporti si possono chiamare l'ARPA Al numero 800-762-622 Ripetiamo 800-762-622 E la GTM allo 085-43-212 Ripetiamo 085-43-212 Per quanto riguarda la GTM il sito è www.gtmpescara.it Il sito invece dell'ARPA è www.arpaonline.it E per quanto riguarda anche l'ARPA c'è anche l'applicazione per gli smartphone ARPA orari Seconda edizione domenica prossima 29 dicembre del concerto di Capodanno offerto alla città di Pescara dall'amministrazione comunale con la giovane orchestra d'Abruzzo, il coro dell'Accademia di Pescara e il polo artistico Misticoni Bellisario diretto dal maestro Pasquale Veleno Nelle sale del Cinemateatro Massimo alle 11.30 riecheggeranno le note di Strauss, Verdi e Rossini come nelle migliori tradizioni viennesi per un evento gratuito L'arte del silenzio è questo il titolo dell'appuntamento con Fra Emiliano Antenucci e la giornalista Ilenia Pietra Calvino che si terrà presso la chiesa di Santa Caterina da Siena in Viale Mezzanotte 92 a Pescara il prossimo 4 gennaio a partire dalle ore 18 L'appuntamento è organizzato dall'Associazione Culturale San Benedetto E siamo alle previsioni del tempo Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo sereno sia in serata che nella notte con temperature da 3,5 a 5,5 e 20 deboli Domani si prevedono cielo poco nuvoloso al mattino e coperto nel pomeriggio con temperature da 2 a 14,5 e 20 deboli al mattino e moderati nel pomeriggio ed in serata Dopodomani si prevedono piogge e schiarite al mattino e nubi sparse nel pomeriggio ed in serata con temperature da 8,5 a 13,5 e 20 moderati Il mare è previsto poco mosso stasera da poco mosso a mosso domani e da mosso a molto mosso dopodomani E ricordiamo inoltre che questa sera la nostra emittente Radio Speranza in blu trasmetterà a partire dalle 21 e 20 la Santa Messa che dalla Basilica di San Pietro in Roma sarà presieduta da Papa Francesco Domani poi alle 11 e 50 il collegamento sempre con Piazza San Pietro per la benedizione Urbi e Torbi da parte del Papa E dunque con questo è tutto da Massimiliano Spiriticchio al microfono da tutti noi, dalla direzione, dalla redazione, dalla regia da tutti i collaboratori di Radio Speranza in blu giunga a voi l'augurio di un sereno Natale ed è tutto, grazie e risentirci Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica Grazie a tutti